Lei si chiama Cupra Terra Mar, ma come vedete tutto intorno a me siamo molto, molto lontani dal mare, ma siamo anche molto in alto, quindi non siamo per nulla coi piedi per terra. E io, francamente, non so come quelli di Cupra siano riusciti a portare lei l'ultima nata nella Cupra Tribe, nella famiglia di Cupra. Un SUV di oltre quattro metri e mezzo, a breve vi dico tutte le sue dimensioni, le sue coordinate e anche il suo baule, ma è un'auto che è stata progettata, verrà costruita sulla stessa piattaforma, sulla stessa base MQB Evo, condivisa per esempio con le cugine tedesche, Volkswagen, Tiguan e Audi Q5, ma rispetto a loro lei è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia ovviamente fuori, è tutta un'altra storia dentro, ma anche sotto. Oltre ad essere lontani dalla terra e dal mare, siamo molto lontani dalla città e dall'autodromo da cui questa Cupra Terra Mar prende il nome, appunto l'autodromo di Terra Mar vicino a Barcellona, perché oggi ci troviamo in provincia di Vicenza, stiamo provando l'intera gamma di Cupra, ma voglio iniziare proprio da lei, appunto, con le sue dimensioni, come avevo anticipato, 4,52 m di lunghezza, 1,58 m di larghezza ed 1,86 m di larghezza. Voglio spostarmi nella parte laterale in cui mostrarvi anche altri dettagli, come ad esempio i cerchi, che vanno da 18 a 20 pollici, in questo caso abbiamo nero lucido e rame. La vista completa ci dà anche un'idea di quelle che sono le sue proporzioni convenzionali, classiche, quindi meno esasperate rispetto alle linee magari di Tavascana e di Formentor o anche della Born, un passo di 2,68 m, qui c'è un'anticipazione su quelle che saranno le motorizzazioni, ma nell'anteriore abbiamo un frontale leggermente più sobrio rispetto alla Formentor, non abbiamo zanne, non abbiamo branchi, abbiamo comunque un muso ampio con dei convogliatori laterali, subito sotto questi gruppi ottici a punta di freccia che mantengono la tecnologia Matrix LED con i tre elementi interni, ma voglio continuare a girarle tutto intorno per mostrarvela con più completezza possibile. Qui un altro indizio delle sue motorizzazioni lo troviamo in questa bocchetta, quindi non temete, non sarà 100% elettrica per quelli più tradizionalisti di voi, ma eccoci nel posteriore dove mantiene un po' la più grande convenzionalità con il mercato attuale, quindi questo retro con una stripe che unisce visivamente i fari a livello luminoso con la retroilluminazione anche del logo Cupra, subito sotto il lettering Cupra in rame e anche gli elementi triangolari che qui però si moltiplicano. Interessantissimi, una coda che finisce a sbalzo con uno spoiler molto pronunciato ed uno splitter specifico che secondo me è fenomenale. Voglio però farvi vedere qualcos'altro, proviamo ecco qui ad aprire il suo grande baule elettroattuato, tutto quanto manco dirlo rivestito in moquette con il doppio fondo per i cavi di ricarica, per la plug-in ovviamente, e una base di 540 litri con la possibilità, come vedete già, di abbatterlo e scendere, anzi a salire su maggiori livelli grazie alla configurazione 40-20-40. Lo chiudiamo, continuiamo un po' con questo rapido walk around in anteprima. Qui ve lo faccio vedere, dai, tanto già ci siamo. Le due prese di ricarica per la ricarica della variante plug-in in corrente alternata 11 kW, corrente continua a 50 kW quindi in DC, con un'autonomia di oltre 100 km in modalità 100% elettrica e un pacco batterie di 19,7 kWh. Ma ecco gli interni, qui troviamo già un primo punto molto interessante, cioè i sedili. La qualità percepita sin dall'inizio è davvero tanto alta, troviamo infatti questi sedili rivestiti in pelle praticamente quasi a guscio, sono sicuramente dei sedili sportivi, però ci riserviamo appunto di parlarvene in un primo test drive. In futuro i poggi a testa sono integrati con il logo Cupra, abbiamo anche questi dettagli in rame al centro splendidi, chiaramente tutti i sedili con regolazioni elettriche, memory e quant'altro, ma quello che interessa diciamo al pilota, al guidatore è proprio il volante. Il volante è decisamente generoso, con il fondo piatto, con tanti dettagli color rame, come ad esempio i rotori per le modalità di guida, per l'accensione o anche le cornici relative a tutti i sistemi di sicurezza, assistenza alla guida, la radio, le telefonate. Strumentazione razionalizzata dal design rinnovato, abbiamo anche il nuovo infotainment, nuovo non solamente a livello estetico ma anche a livello di sistema operativo, infatti abbiamo 13 pollici, purtroppo mantiene lo slider touch qui sotto, ma perlomeno, contrariamente a terra mar, i pulsanti sul volante sono fisici e tutta questa plancia dal design goffrato, su tre livelli, con un materiale soft nella parte bassa, le bocchette del clima in rame e questo bellissimo tunnel centrale ad arco che racchiude le prese di ricarica, la ricarica wireless, ma anche l'auto hold e lo stazionamento. Qui dietro invece c'è la leva del cambio, cambio automatico ovviamente, e a breve parlo delle motorizzazioni, mentre qui sotto, classico, poggia a braccio. Tutto quanto in tinta, in questo color vinaccia è interessantissimo. Gli interni sono anche rivestibili con un materiale chiamato sequel, quindi con materiali ricavati da plastiche, materiali riciclati, ripescati purtroppo dal mare e dal Mediterraneo, come possiamo vedere anche dal tappetino. Ma vi faccio vedere il pannello porta con questo dettaglio in rame, con l'illuminazione in ambiente, che poi corre per tutta la parte bassa del parabrezza e ci dà varie indicazioni. Impianto audio Sennheiser, questi dettagli tridimensionali, come potete vedere stampati praticamente 3D all'interno della finitura e concludiamo con il vano posteriore, dove troviamo uno spazio decisamente comodo per tre, ancora queste fantasie al centro dei sedili, le bocchette, le prese dedicate, in questo caso abbiamo il tetto apribile e una vista completa nella parte anteriore. Su di lei vi ho detto praticamente tutto, se non fosse per le motorizzazioni, capitolo importantissimo, e qui ve le leggo perché sono motorizzazioni nuove per questa gamma, infatti parliamo di un 1500 TSI turbo benzina da 150 cavalli che rappresenta un po' l'entry level, la base con un DSG in doppia frizione a 7 rapporti, nel frattempo piuttosto che il mio brutto muso vi faccio vedere un po' meglio la Terra Mar con tutta la sua aggressività e l'unicità grande personalità delle sue linee, ma parlando di motorizzazioni abbiamo ovviamente le plug-in hybrid in due configurazioni da 204 a 272 cavalli, ovviamente cambio automatico, le 2000 TSI invece turbo benzina continuano con due configurazioni da 204 a 265 cavalli, entrambe con il DSG a 7 rapporti ed entrambe con la trazione integrale 4 drive di Cupra. Per quest'auto che in generale come detto mantiene la base del nuovo Q5, del nuovo Volkswagen Tiguan, ma che ha un assetto ribassato di 10 mm rispetto alle sue cugine tedesche con le sospensioni a controllo elettronico e nello specifico uno schema con MacPherson anteriore e Multilink al posteriore. Ultima nota, i prezzi, infatti la nuova Cupra Terra Mar partirà da poco sopra i 42.000 euro, la vedremo nei showroom nei prossimi mesi, a noi ci ha convinti veramente tanto, continuo ancora una volta a farvela vedere perché io più la guardo e più o meno innamoro queste linee veramente cattive, guardate per esempio il muso con le sue nervature e la sua grande tridimensionalità. Voi fateci sapere appunto cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale, cliccate sul campanello per ricevere le nostre notifiche e se vi va seguiteci anche su Instagram, su TikTok, sul nostro sito web, il nostro nome è uguale dappertutto ed è wedrive.tv Grazie a tutti.